Intensa ed emozionante la seconda giornata di Serie B interregionale Girone H. Vincono tutte tra le Muramiche tranne Piazza Armerina che cede l'intera posta in palio a Marigliano aprende in casa Siaz la prima crisi della stagione. La squadra di Ceccato sarà la prossima avversaria della next casa Barcellona che pur perdendo esce a testa alta dal pala Calafiore contro una Viola che ha dovuto faticare le fatidiche sette camice ma alla fine l'85-81 premia la squadra di Cadeo con un Superani che firma 26 punti, tra i giallorossi Epifani si ferma a 20. Con la Viola a punteggio pieno c'è il basket Castanea di Cocce Cavalieri che vince di misura 91-90 contro la Bimbo un basket rende. Su gli scudi il duo Roberto e Bellomo, 27 il primo e 18 punti il secondo. Per i calabresi splende l'ex Barcellona Tartamella che realizza 22 punti. Il terzetto di testa si chiude con la pallacanestro Angri che schianta Matera 90-53, Martinez con 25 punti e Anine con 19 sono i migliori realizzatori del match. Prima vittoria 89-77 della Svincola Timilazzo nel derby contro la Basket School Messina risultato mai messo in discussione con un Super Scredi che chiude la sua partita con 21 punti. Infine vince 70-55 la pallacanestro Antoniana contro l'Accademia Tanzaro. La squadra di Aldo Festinese chiude con 4 uomini in doppia cifra, Bolis 18, Fessinese 16, Fiorillo 15 e Vranes 12. Da mercoledì sera con Castanea, Svincolati, Milazzo, Accademia Tanzaro, Basket School Messina, Bimbo un basket rende, Viola Reggio Calab inizia il turno infrasettimanale che si chiude giovedì con Virtus Matera pallacanestro Antoniana, Marigliano Angri e l'attesissimo Barcellona Basket 4.0 Piazza Armerina. Affronteremo i piazza Armerina determinati e cercheremo di mettere in campo tutta quella voglia e quella volontà di fare il risultato che abbiamo dimostrato contro la Viola.